buona sera a tutti quanti ragazzi benvenuti nel canale gameplays un saluto dal vostro amico salvo che sta iniziando questa nuova serie spero che vi piaccia come sempre lasciate un bel pubblica vinto iscrivetevi al canale e iniziamo ragazzi allora in posto c'è tanti personaggi è un gioco di sapravvivenza questo ragazzi questo gioco è ispirato dal anzi dai telefilm quelli lost allora cosa è successo l'ultima cosa che ricordo è una forte tempesta sono ancora tutto intero ora darò un occhiata in giro magari trovo qualcosa di utile guarda l'intorno con e noi ci guardiamo bella posso girare la telecamera come voglio ho visto qualcosa lì un bel macete credo che sia questo mi può tornare utile o ora almeno posso difendermi per il quadrato per fare un colpo alla macete e poi ho le macete per farti stare tra affitto l'intrazione per tagliare altri agenti ah non solo serve per prendermi ci do un po' non ho soldi mettiamo un po' qua esploriamo c'è la mappa si che c'è la mappa c'è la mappa e anche questo è un gioco un gioco multiplayer grazie ho no 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 e no 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 ma ...diccio come passaggio... ...i giochi non poteva prendere ma... ...mora c'è il freddo? ...diccio come passaggio... ...è il freddo? non ho guardato ah sono giudato ah sono giudato sono giudato ma si è giusto se è giusto ma si è giusto ma si è giusto ma si è giusto ma si è giusto oh cosa è la cosa che è morta qualcuno nei guai questo posto mi sembra abbastanza pericoso devo essere prudente aspetta credo cosa è successo apri con chiave non abbiamo una chiave allora allora continuiamo chi è questo chi è l'uomo strano che ora stavo giusto preoccuparmi di questo tipo uomo strano momento tu non sei il mio assistente non ti conosco neanche uomo strano parlando per noi da dove vieni fammi indominarti sei beccato una tempesta e una brisa ho ragione quello significa che l'uomo strano non abbiamo un momento da perdere seguiamolo montano non è basta se si rompa ah non scherzo l'uomo strano è qua chi è l'uomo strano chi è l'uomo strano aspetta vabbè eccoci qua casa dolce casa ok ascoltami ora alcuni eminenti scienziati pensano che la tempesta che ha detto era stata sia in realtà un portale extradimensionale e tu sei l'ultima vittima nella vagata nel treno delle bermuda ah siamo nel treno delle bermuda lo so perché io sono tra quei scienziati io e il mio assistente oh non di nuovo dove è finita quello scansia fatica questa volta tieni prendi questa lanterna e riportami il mio assistente oh ci abbiamo pure la lanterna qua andiamo una guardatina qua sopra è non c'è 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 Sì, è vero, è vero, è vero. Questa è la gusca, è stata leggerchissima, poi si rilontano, poi si rilontano, eppure. Questa è l'assistenza, ooo... Abilità lo sapevo! Abilità! Muratone, ripara ponti utili per l'accesso a nuove aree. Fabio, sblocca casse di agenti. Corriaccio. Salute significamente a mancio rispetto alla media dell'equipaggio. poi essere dopo tutto questo tempo c'è qui significa che il portale si è finalmente aperto ti prego aiutami a fucile sono incastrato con quel tipo da troppo tempo guarda questa mappa fai clic su ok vi faccio le acque intorno al triangolo bermuda ah le acque dove lo puoi? si si no l'apro cosa succede? si allora nella quale intorno al triangolo bermuda sono impossibili andare senza la tavola tutte le isole hanno almeno una tavola sul posteriore si trova dietro questo cancello dobbiamo riparare il ponte da qual è la chiave aprire il cancello e trovare la tavola ah ok ok la chiave 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 forse da questa parte la chiave ok ah lei lo fa ah figo ha creato un ponte la c'è una chiave ecco la chiave ecco la qua apriamo col cancello e recuperiamo la tavola il cancello sarebbe a questo di qua questo è qua a sinistra dove mi diceva ah abri con la chiave questa di qua eh si grande caldo bellissimo ci siamo occhio alla tua lampada inizierà a lampeggiare non appena siamo vicini alla tavola ah inizierà la tavola ah oh cazzo cazzo cavole dinosaurio oh scusami ah mi sono sparita fortunatamente perdonatamente grazie grazie ok ah 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 E' quello che è? Oh no la tavola prova le tavole se subisci danni per una tavola per posire una tavola per il rispetto non costo alcune serie la tavola la tavola la tavola la tavola il Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Trofeo avventuriero. Grazie a tutti. 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 Abilità. Grazie a tutti. 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 Oh sto parlando con te Marco che sei entrato. Oh sto parlando con te Marco che sei entrato. E' entrato uno su quali mi ha fatto il Mark 74. Oh 10.000 inviti a Fortnite mi ha spedito. Sì, ho visto il nome ma non lo sento neanche io. Sì ho visto il nome ma non lo sento neanche io. Mi ha fatto un po' guardare. Sì è nepporte. Ok, lo eliminiamo fuori. Sì lo so. Aspetta che lo spello. Addio. Adesso non può più entrare. Ma anche mi ha rotto la scatola. Mi ha rotto. 10.000 inviti a Fortnite. Un appresso all'altro. Quindi pazienza fino a un certo punto. Allora ho preso tutte le chiavi. Anzi tutte le tavolette ho preso. Non ho l'ora di più. Oh come ti ho? No, non. Allora ho preso la parte. Qui si tratta da un po' guardare. Non ho preso di più. No, non ho preso. Non ho preso. Qui si tratta. Adesso non ho preso. Sì ho preso. Non ho preso. Non ho preso. L'ho presa torta Ah, lascia visola Non c'era tuttora, facile, non la posso fare Non ce l'ho fatta Facile, facile Non c'est un po' C'est un po' Non c'est un po' Ah, qui d'où? Non c'est un po' C'est un po' Non c'est un po' C'est un po' C'est un po' Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. 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 a tutti.